ciao popolo mi eccomi qua allora avete già visto dal video oggi parliamo di un paio di pietre nuove che ho preso sempre del serie poca spesa tanta resa parliamo però di pietre da coltello pietre che a me hanno impressionato tantissimo anche se sono pochissimi giorni che le ho ma tutto come al solito ormai lo sapete dopo la sigla a riaccomi con tanto ma stavo spiepacchiando perché lo sapete anche anche durante la sigla non si interrompe mai la registrazione a me i video come vengono vengono allora oggi parliamo di un tipo di pietra che io stavo cercando da tanto da quando un marco ciccarelli le nominò in un suo video il giro del mondo in 80 pietre o cose del genere cioè praticamente le arkansas sintetiche un tipo di pietra che serviva che serve a coprire quel buco che c'è di grit tra le pietre a olio di bassissimo grit molto aggressive le norton e le norton india che le fanno di due granulosità ma molto molto aggressive la più fina è un 300 e poi praticamente nell'olio nell'affilatura olio non c'era più niente bisognava subito saltare alle arkansas quindi naturali ma anche la più bassa la più morbida delle arkansas comunque parte da un grit molto elevato va benissimo se stiamo parlando di affilatura su particolari acciai quelli giapponesi augami shiro kami gingami e acciai multistrato ma cominciare ad affilare su questi acciaio monostrato il classico acciaio inox che conosciamo tutti in cucina coltelli di questa lunghezza questo 10 pollici quindi un 25 centimetri abbondanti si rallenta tanto l'operazione viene benissimo ma si rallenta tanto allora andiamo veloci a me servivano delle pietre per poter lavorare su questi coltelli che non fossero le diamantate per carità con cui mi trovo benissimo ma anche la diamantata migliore quando siamo arrivati al 1000 1200 ha finito mi e 1000 1200 su questo tipo di acciaio pure sporco coltello che ha lavorato adesso ve lo metto sotto il microscopio vedete che ho preparato un supportino stavo dicendo su questi coltelli non serve arrivare come sui acciai giapponesi coltelli tradizionali da cucina giapponesi ai 1000 mila il 5000 al 6000 all 8 mila ci sono ottime nagayama un po grossolane ma che vanno benissimo sul coltello leo kudo qui a noi serviva a noi serve una bella pietra sintetica veloce perché se no per coprire 25 centimetri ti voglio e quindi sintetica veloce volevo coprire questo buco nell'affilatura d'olio allora prima ve le faccio vedere e poi andiamo a vedere in che condizioni siamo di partenza sul coltello le pietre eccole qua non so se si riesce a leggere ma suppongo di sì allora vedete super arkansas ma non c'entra assolutamente niente con le arkansas naturali queste sono pietre sintetiche fatte da una ditta tedesca sempre in collaborazione con una ditta giapponese e sono pietra olio e arrivano già preimpegnate questa è la 2000 doveva essere bianca ma come vedete l'ho già utilizzata un pochettino ho fatto le mie non le mie prove ho fatto le mie belle affilature casalinghe e questa è la 4000 guardate ve lo dico subito senza girarci troppo intorno a me quella che ha impressionato da morire è la 2000 non che la 4000 non valga ma la 2000 è qualche cosa di eccezionale anche perché fermarsi a un grit 2000 su ripeto questo tipo di lame quindi l'acciaio inox monostrato quello che conosciamo tutti nelle nostre lame da cucina è tanta tanta roba ci si potrebbe addirittura fermare io mi fermo spesso sulla scusate diamantata 1200 poi una passatina sulla pad del strop e il coltello è pronto da tagliare quindi pensate che gran comodità anziché fermarsi sulla 1200 riuscire arrivare a un 2000 sintetico ad olio ragazzi velocissimo andiamo subito a fare la prova l'ultima indicazione che vi do è che queste pietre non costano niente questa da 2000 costa 24 euro questa da 4000 costa intorno ai 26 euro per cui capite che con 50 euro si comprano tutte e due arrivano già preimpegnate pre impregnate vi faccio rivedere di nuovo l'indicazione del nome si trovano ve lo dico tranquillamente su uno store famosissimo online tedesco per cui è facilissimo trovarle e anche se si chiamano arkansas sono commercializzate da una ditta che si chiama consuto consuto che poi significa solo tagliente ok allora vi faccio vedere il la situazione iniziale del coltello vi faccio vedere questo coltello adesso lo vado a mettere lì non cambio l'inquadratura proprio per farvelo vedere ho creato un supportino con un portatelefono è un po laterale ma credo che si riesca a vedere per tenere un po la lama inclinata per giocare con la luce vado al microscopio eccolo qui o bellissimo abbiamo già preso pure un punto usurato quindi vedete un coltello che non sta malissimo però vedete la piccola tacchettina non si può neanche chiamare chip la piccola tacchettina sul filo ma un filo che generalmente non sta proprio male 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 vedete quindi la classica situazione che si trova ecco vi faccio vedere un po qui che è un po più sgraffiato vedete nella parte in alta vicino al tagliente dove ha perso lucidatura su se guardate l'immagine sulla io faccio così ma dovrei fare così sulla vostra sinistra la lucidatura ancora arriva fino sul filo poi mano mano che si va verso destra vedete che il filo non è più lucido quindi c'è usura l'ingrandimento non è molto forte anche perché questi coltelli hanno grandi bevel questo è un 80 ingrandimenti in questo potrei fare qualche cosa di meglio vediamo un po se a 160 ma poi non si capisce più l'immagine eccola la vedete però un po più scura io per fare queste prove per farvi vedere le potenzialità della pietra previsco lavorare a questi ingrandimenti ripeto stiamo parlando di coltelli non stiamo parlando di rasoi più o meno una messa a fuoco decente ok ritorniamo alle pietre per adesso mettiamo un attimo da parte la 4000 prendo la 2000 se vede che non mi sono preparato niente come al solito non neanche preso il supportino allora scusatemi sul portiello per la pietra io devo imparare essere un po meno brancaleonico allora la pietra arriva già pre impregnata e c'è scritto benissimo nella descrizione del prodotto quindi non c'è grosso assorbimento d'olio e io vado in questo caso leggermente più abbondante l'olio il classico laschi da affilatura vado un po più abbondante del solito perché basterebbero poche goccine però visto che questo tipo di acciaio reagisce bene a un po di sovrabbondanza ok spargiamo un attimo poi ecco a me questa pietra è impressionato tantissimo sulla velocità sulla capacità di abrasione e poi devo dire una cosa io sono un maledetto perché le pietre faccio i video con le pietre sporche però ecco è bello avere una pietra chiara perché la limatura prodotta si vede tantissimo allora voice eccolo qui il bestione un po rovinato vabbè ma questo poi lo farò da solo non in video riluciderò questa parte qui ecco basta una nastro finata questo è solo i segni del lavoro questo è appena uscito da sto io tra l'altro la bellezza di questi acciai inox col poi col manico in sintetico e che si possono strapazzare come si voglia non so se si riesce a leggere è un 10 un 10 pollici quindi 25 centimetri 6 ma dico poi se vede che era bestia allora ciancio alle bande andiamo andiamo subito allora anzi voglio partire che se io di solito parto da questo lato oggi voglio partire da quest'altro così tanto per cambiare non c'è nessun vantaggio nessuno svantaggio allora parto tranquillo tranquillo dal tallone guardate immediatamente che cosa sta succedendo lo state vedendo state vedendo adesso vi faccio vedere veramente la velocità di questa pietra chi affila di solito i coltelli sa che l'affilatura del coltello è un'affilatura lunga si va a zone ecco sto insistendo un po sulla parte della punta si va per sezioni e non c'è niente da fare ci vuole il tempo che ci vuole affilare un coltello non è una cosa semplice cioè no scusatemi non è una cosa breve c'è bisogno di abbradere di solito parecchio materiale lo state vedendo e state vedendo il nero di seppia che sta uscendo fuori ancora la pietra si hanno venduta come carica però un po di assorbimento c'è forse anche per questo in questi primi giorni ho preso l'abitudine di abbondare un pochettino con l'olio ma vi ripeto sarà una settimana che ce l'ho è che sono rimasto così impressionato che ho pensato dico vabbè anche se non la conosco bene come pietra la voglio subito far vedere perché magari c'è c'è qualcuno che come me affila i coltelli i suoi coltelli da cucina magari ne ha diversi se ognuno ci deve mettere mezz'ora mezz'ora quando va bene capite bene allora vado subito a sentire il ricciolo il ricciolo che già c'è il ricciolo che già è fatto è già pronto cioè su questo lato voi lo sapete aspettate le mani sporche di olio cerco di cambiare inquadratura senza gnoccare troppo il mouse voi lo sapete no si affila sul lato poi si va a sentire sul filo il il ricciolino di bava se si è formato se si è formato bene lungo tutta la lunghezza del filo vuol dire che è ora di cambiare lato la mano sporca è questa con la mano pulita ricambio di nuovo inquadratura ok quindi a questo punto giro vado come al solio a prendermi la mia inclinazione che poi tutto il difficile tra virgolette mantenere sempre la stessa inclinazione ma ripeto tra virgolette perché basta affilare qualche coltello alla fine la memoria muscolare arriva e non c'è un grosso problema l'unica cosa da ricordarsi che quando si va a fare la curvatura necessariamente per te metto qui necessariamente va inclinato leggermente di più per mantenere il contatto del filo sulla pietra quindi diciamo che la cosa più delicata da fare l'inizio della curvatura perché va cambiato va cambiato l'angolo e come è come fare una specie di x rolling poi una volta ritornato sul lato rettilineo del filo si riprende l'angolo impostato e si va tranquillamente niente di particolare mano mano che procedo con le passate sposto la mia mano sinistra per fare pressione per bene nel punto che mi interessa andando avanti con con il lavoro vedete la mano sinistra si sta riavvicinando piano piano al tallone per cui me ne vado su tutto il filo controllo subito la bavetta sta per ritornare su quest'altro lato c'è bisogno ma ancora di un minutino non pensate più più di tanto e poi poi ve lo metto subito sotto il microscopio per farvi vedere perché è incredibile è incredibile quello che succede adesso metto sotto il microscopio faccio la figura da pesce perché non è successo niente immaginate che bellezza questi sono i miei video senza rete io prendo parto chiacchiero ma mica lo so se poi alla fine ci riesco non ci riesco ok vediamo un po la bavetta c'è non è molto 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 uniforme devo dire a onor del vero però comincia ad uniformare il risultato adesso le passate le alterno una per lato così la bavetta a via di girarsi prima di essere sposta si viene spostata su un lato poi viene spostata sull'altro quindi si spezza da sola e il filo rimane sufficientemente pulito ok adesso pezzettino di carta un solito scottex mi metto qui è così anche se dalla finestra piccola però comunque si è già guardate impressionante è impressionante guardate la quantità di limatura stiamo parlando di acciai inox belli duretti a questi sono coltelli che in cucina vengono proprio maltrattati alla grande devo fare la prima prova allora guardate vi riprendo l'inquadratura principale tanto per farvi vedere il coltello che va sotto il microscopio e adesso andiamo eccolo eccolo qui allora vedete quella piccola intacca ancora c'è ma guardate già quanto si è addolcita voi calcolate che dall'inizio del video con tutte le chiacchiere la presentazione delle pietre perché il percome dove l'ho prese quanto costano come sono fatte perché la ditta se l'ha inventata e compagnia cantando siamo arrivati a 18 minuti quindi alla fine sono 10 minuti di lavoro sì e no ma guardate questa 2000 ad olio come lavora e guardate un'altra cosa se vedete a parte bellissima i marchi di affilatura veramente molto belli se notate sul filo nelle vicinanze del tagliente già si vedono i primi segni di lucidatura vi ricordo che al microscopio la lucidatura ve ne accorgete perché la parte scura dell'immagine lì la luce non rimbalza verso l'ottica verso l'obiettivo ma la luce schizza via c'è un po un effetto specchio più la superficie sotto invece è rugosa maggiore la percentualità è la percentuale sentite che ho detto che bestialità la percentuale dei raggi luminosi che ritornano partono e ritornano verso l'obiettivo quindi le immagini inchiare e vedete che lì già c'è una grossa si grossa un bel principio di affilatura provo una sola volta a raddoppiare l'ingrandimento tanto per farvi vedere più nel dettaglio guardate sta 2000 sintetica come lavora faccio vedere un altro ci proviamo raddoppiamo di nuovo andiamo allora questi sono 240 ingrandimenti non mi fate perdere troppo tempo bello è ci stiamo parlando di un bello da cucina stiamo parlando di dieci minuti di lavoro scusate ritorno a un ingrandimento più umano che faccia vedere bene tutto il bevel e non solo il tagliente guardate quanto è bello c'è rimasto solamente ecco qualche ancora ci vorrebbe ancora un po di lavoro per sistemare questa piccola scheggiatura ma veramente piccola perché se guardate non è neanche un chip completo dietro chi ha gli occhi buoni riesce a vedere che c'è ancora del materiale diciamo una cosa vi dico proprio la verità in condizioni normali io avrei continuato tranquillamente ad affilare prima per poter toglierlo adesso visto che è un video dimostrativo se vi fidate alla lì altri cinque minuti di lavoro è quel chip sarebbe sparito alla grande perché vi ripeto guardate la capacità di asportazione del materiale di questa pietra la pietra che tutto sommato guarda la pulisco solamente con un po con un po di carta tutto sommato si intasa molto poco vedete si sporca molto poco non c'è una grossa penetrazione di residui sul piano di affilatura guardate è già pronta per una nuova affilatura e questo significa anche me lo scordavi dire che sono pietre di buona durezza certo non arrivano non sono non saranno mai dure come una naturale ma nel campo delle sintetiche va sicuro sono belle pietre dure quindi una volta fatta la lappatura iniziale perché io lo ricordo io sarò un malato ma le pietre vanno lappate sempre 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 anche nuove di fabbrica anche appena comprate perché anche se nell'affilatura del coltello diciamo che la planarità si è un valore ma non esasperatamente fondamentale come nel campo dell'affilatura del rasoio le pietre devono essere spianate le pietre devono essere in piano ma non c'è bisogno di arrivare al millesimo di micron al piano di riscontro devono avere una buona planarità questa è la 4.000 allora stessa cosa scusate io approfitto la chiacchiera così me la spippacche un po allora la 4.000 nulla di diverso dalla dalla pietra precedente anche questa è una pietra che già utilizzato per l'affilatura la provo molto velocemente tanto per farvela vedere al lavoro ma tutto quello che ho detto per la per la sorella per la 2.000 vale per la 4 ripeto a me ha colpito molto 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 la 2.000 non che questa non vada ma la la 2.000 rispetto a questa è molto molto più veloce questa è una buona pietra sintetica ad olio ottima per vado a prendere un cutietto ottima per questo tipo di acciaio scusatemi intanto comincio chiacchierando 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 ottima per questo tipo di acciaio però ecco rispetto all'altra è leggermente più lenta è vero che la finezza è molto molto maggiore ma ripeto almeno per come la vedo io arrivare a finezze estreme sugli acciai monostrato occidentali secondo me non ha nessun senso fare dei fili tiratissimi a meno che uno non abbia il coltello specializzato che usa solo per sfilettare no neanche per sfilettare per tagliare le striscioline di salmone fresco salmone affumicato per fare il tonno crudo allora si usa solo per quello ok una lama che difficilmente taglierà materiale duro un filo tirato alla morte potrebbe anche durare un po di più ma tirare un filo alla 8.000 alla 10.000 per poi andare a lavorare su un pollo per poi andare a lavorare su materiali duri tipo le bucce del melone invernale che sono durissime adesso mi viene in mente su coste di sedano che non sembra ma sono dure e fibrose per cui il coltello non gode molto su certi tipi di taglio ripeto per il coltello da cucina come questo il classico coltello per noi è la forma quella coltello da chef genericamente lo chiamiamo lo troviamo sugli store online questo tipo di forma permettetemi la bestialità giappone potrebbe avere come corrispondi corrispettivo un giuto abbastanza sottile di lama però il giuto è più flessibile questo ha una bella rigidità allora pure qui io continuo controllo già sento il ricciolino di bata non è formatissimo ma già si sente quindi faccio giusto giusto un'altra un'altra passata adesso torno indietro ed è fatta questo è ecco qua sentiamolo il ricciolino c'è si sente la bavettina quindi cambio lato da affilare parto dal tallone come al solito niente di particolare niente nessun terzo mistero di fatima nessun trucco del mestiere mantenere l'inclinazione del corretta della lama sulla pietra e basta dopodiché punto di pressione con la mano sinistra messa vicino al al filo per avere la maggior pressione possibile se attenzione a non farvi male in affilatura e la mano che piano piano se ne scorre avanti indietro l'ho detto in altri video lo ripeto ma parecchia gente il dubbio è questo ma qual è l'inclinazione corretta l'inclinazione corretta è quella che non ti fa sentire lo scalino se tu passi dal coltello alla pietra quindi a secondo dello spessore della lama a secondo della geometria imposta ogni coltello ha la sua inclinazione per cambiare un angolo di bevel di un coltello ce ne vuole quindi il consiglio mio è sempre tenere l'angolazione di fabbrica perché qui non stiamo parlando di rasoli qui non stiamo parlando di lame di piccolo spessore qui stiamo parlando qui stiamo parlando di tanto materiale quindi se un coltello esce dalla fabbrica con un angolo in posto di 20 gradi lasciate i 20 gradi se esce da 25 lasciate i 25 se è 30 lasciate i 30 a meno che non abbiate l'attrezzatura una smerigliatrice a nastro qualche cosa perché va sicuro che farlo a mano è un lavoraccio allora vediamo un po' sento la bavetta non è onestamente molto uniforme ecco faccio un altro po' qualche altra passata su questo lato e dopo di che comincio con i movimenti alternati per spezzare questa bava eccola qua ci siamo ci siamo sì ci siamo allora adesso un lato e l'altro lato un lato e l'altro lato solito giochino per uniformare il risultato e per spostare ogni passaggio il ricciolo di bava da un lato all'altro fino al punto di farlo spezzare eventuali altre bave riccioli poi si vanno a levare con la stroppatura finale io non so se si vede ma anche questa ha lavorato in velocità allora giusto giusto un pochettino allora prendo un altro pezzettino di carta meno male questa volta me ne sono ricordato prima l'ho preparato prima quindi una pulizia del bevel del filo c'è sempre il solito trucchetto quando dico trucchetto no più di qualcuno ha drizzato le orecchie a coniglietto qual è il trucco ragazzi il trucco ve lo dico subito volete pulire il filo senza fargli perdere di di efficacia guardate aspetta che cambio inquadratura l'ho fatto vedere tante volte io lo faccio anche per i rasoi il tappo di zucchero un comunissimo tappo di zucchero una passata ma può anche due ma se il ricciolo si è levato la bava si è tolta ok finisco di pulire anche qui cioè guardate che cosa ha tirato fuori la pietra anzi ricambio inquadratura anche questa per farvelo vedere vedete anche questa pietra si pulisce molto molto facilmente basta un po' di carta non c'è bisogno di fare le grandi manovre eccola qua quindi sono pietre guardate veramente comode da usare sto facendo e sto così decantando neanche mi avessero pagato non lo pensate mai una cosa del genere ma cazzo ecco il chip io ho il potere di inquadrare sempre col stesso punto c'è un chip sulla lama dai ragazzi vediamo un po' di rimettere a fuoco guardate come è aumentata la lucidatura diciamo se no è peggio per voi io il chip lo tengo lo so hai sbagliato allora attenzione attenzione sto affilando sto facendo vedere come lavora una pietra wow wow ho lasciato una cippatura sul filo anatema su di me non sono stato capace non è vero non ci vuole niente a levarlo dovevo levar quel chip la soluzione la soluzione è questa dieci passate questa aspetta vediamo se riesco a prendere la messa a fuoco aspetta forse riesco a metterla a fuoco qua questa diamantata sciarpa lato 325 lato 1002 qualche passata sul 325 una raffinatina sul 1002 e ripassavo un'altra volta e sarei ripassato un'altra volta a queste pietre finte arkansas sintetiche ad olio quindi permettetemi fatemelo a corto una volta il video siamo arrivati a 33 minuti ma ho praticamente finito allora ritorniamo un attimo al microscopio guardate questo filo andiamo più su con gli ingrandimenti perché chi mi segue magari è abituato agli ingrandimenti da rasoio forse l'immagine è un po' scura allora qui stiamo a 160 ingrandimenti qui stiamo a devo abbassare un po' altrimenti esce fuori dall'inquadratura qui stiamo a 240 ingrandimenti fatemi prendere la messa a fuoco guardate a 240 ingrandimenti che cos'è è bello 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 poi ripeto ancora manca la stroppata ancora manca la valde stroppe quindi dai magari ritorniamo a un ingrandimento più umano ecco questo che potrebbe essere il massimo dell'ingrandimento con una lentina normale questo è un 120x altrimenti no vabbè dai va bene così dico guardate che cos'è sto filo non è tirato alla morte come giusto che sia per un coltello che deve lavorare in cucina ma guardate quanto è bello allora io adesso vi faccio una prova stupida e dopo di che vado a prendere la pad stroppe che la vedete dove sta appoggiata sulla stufa senza nessuna fatica guardate le striscioline come sono sottili già già taglia la morte ma noi vogliamo ho fatto ho fatto splendido ho fatto cascare tutti i pezzettini per terra poi mi chiappa apre anche a moglie io affilo le mesone allora un attimo faccio un po' di spazio rimetto sto rimettendo le pietre dentro le loro scatoline questa che cos'è no questa è quella della 2000 per cui questa è la 4 la rimetto in scatola e la 2000 la rimetto a posto così libero anche un attimo la schivania perché perché adesso devo usare una pad stroppe bellissima per carità io ringrazierò sempre Simone Brigida che mi ha fatto sta bella sorpresa però me l'ha fatta lunga una guarissima adesso non so sinceramente non so come farvi vedere la stroppatura non so da quale parte riuscirò a come fare per inquadrarla o ma lontano vediamo un po' con questa inquadratura però mezza paddle va giù e che si vede proprio tanto tanto vediamo se e poi oltretutto di una scomodità mortale io ci provo questa è la solita pasta verde che tutti abbiamo tutti quelli che a filo non hanno dentro casa per velocizzare facciamo un po' così prima un po' di passate tutte sul lato e poi tutte sull'altro lato e guardate che non ne sto facendo neanche tante la stroppatura soprattutto sui coltelli è fondamentale anzi solo sui coltelli ragazzi io approfitto non lo so che oggi parliamo di affilatura del coltello ma non scusate aspetta c'è il computer che da fai capricci eccolo qua non usate le pad stropp per stroppare i rasoli usate le coramelle no le pad stropp perché così c'è il piano la pelle vabbè non è il caso però un minimo di polemica dovevo fare no quindi stroppatura scusatemi anche se sta se non è inquadrata ma non ce la faccio vediamo su quest'altra pure qui se ne vede solo un pezzetto è una paddle veramente gigantesca oh dopodiché andrebbe fatto sul cuoio pulito invece io ho una pasta ancora più sottile una pasta bianca che ha un livello di abrasività ancora minore rispetto alla classica pasta verde per cui ma veramente guardate 4-5 per lato non non di più basta ho finito oppure c'è chi preferisce e ve l'ho già fatta vedere ce l'ho anch'io il sistema nanoclotch dell'agenda pure lì pasta diamantata uno sceglie la misura dell'abrasivo arrivano fino a 0,1 micron per cui però io ho voluto fare quello che di solito fa la gente dentro casa un passaggio per affilare su pietra e dopodiché la classica stroppata sul cuoio ho pasta verde ho pasta verde più cuoio pulito ho solo cuoio pulito ve lo faccio ripetere per diciamo l'ultima volta sempre che lo pizzico guardate quanto si è lucidato il filo vi ricordate non è cambiato l'inclinazione del supporto è sempre lo stesso aspettate che metto un attimo a fuoco lo vedete quello che vi stavo dicendo prima più è lucido e più la luce scappa via adesso il filo si riesce solo a intravedere perché gli ultimi micron vicino al filo sono estremamente lucidi per cui lì la luce rimbalza poco dovrei inclinarlo un po' a mano per farvelo vedere però se inclino a mano perdo subito la messa a fuoco provo ad aumentare un po' il livello di luminosità adesso darà fastidio la lama ma sarà più visibile il beve lo vedete si vede i passaggi incrociati della stroppatura ma guardate quanto è lucido sto filo però mi rendo conto che dà fastidio per cui ritorniamo qui ragazzi la volevo fare molto molto più corta però vi siete resi conto che con tutte le fermate con tutte le chiacchiere con il microscopio con la descrizione della pietra con i test con le prove test che guardate io il coltello sta lavorando di peso di suo solo peso guardate che taglio è tremendo è tremendo c'è il foglio strappato grazie a ciovolo voglio infierire su questo guardate anche di punta va benissimo in voice questo più che un video per far vedere qualche cosa l'ho voluto fare per far vedere proprio quelle pietre che sono delle pietre a bassissimo costo e ad altissima efficienza io adesso ve le ho fatte vedere tutte e due prima la 2000 poi la 4000 ma va sicuro in questi pochi giorni sarà una settimana che le utilizzo in cucina su questi coltelli questo chiaramente è uno dei più grandi ma la misura media di una lama da cucina è 16 e mezzo l'ho provata su questi sui dik gli fdk l'ho provata sui sanelli quindi su ottimi acciai monostrato con buone tempre con belle lame la pietra soprattutto la 2000 va che è un amore e secondo me per 24 euro si prende una pietra d'olio sintetica velocissima che basta e avanza per rinfrescare unica pietra per correggere ci vorrà sempre prima la pietra più aggressiva magari ripeto una diamantata per togliere le imperfezioni sul filo cosa che non ho fatto oggi oggi concludiamo il video con un microchip quindi si corregge prima e poi ripeto come unica pietra queste sintetiche queste sintetiche ad olio nate per colmare quel gap di grit che c'è tra le pietre ad olio grossolane e poi non sono più altre pietre sintetiche c'erano solo le arkansas quelle naturali quelle vere allora la ditta ha voluto creare questo prodotto ripeto l'ha chiamata super arkansas non sono delle arkansas ovviamente pietre sintetiche secondo me l'hanno chiamata super arkansas perché lavorano a similitudine delle arkansas vanno benissimo ve lo ripeto costano niente perché la pietra avete visto come lavora avete visto la qualità del taglio avete visto la velocità 25 euro di media ripeto una 24 una 26 si trovano facilmente in commercio adesso lo sapete è una mia abitudine io non metto i link non metto le cose non faccio il personal shopper non ve la prendete ma va sicuro che è semplicissimo trovarle voi ricordatevi consuto che è la che è la marca pietra sintetica a olio basta una ricerchina e la trovate subito quindi detto questo spero di avervi fatto vedere una novità interessante economica funzionante quindi un salutone e ci vediamo al prossimo video ciao popolo